Il viadotto più alto d'Italia si trova sull'autostrada A2 del Mediterraneo, la Salerno-Reggio Calabria. Siamo appunto in Calabria, in provincia di Cosenza, vicinissimi al confine con la Basilicata. Costruito tra il 66 e il 69, ammodernato tra il 2014 e il 2017, il viadotto Italia è lungo più di un chilometro, 1120 metri. L'altezza massima è di 260 metri e fino al 2004 risultava essere il viadotto più alto d'Europa. Oggi continua comunque a rimanere il viadotto più alto d'Italia. Un pensiero va al 2 marzo 2015, quando durante i lavori di ammodernamento uno degli impalcati della carreggiata sud risultò essere privo di fissaggi su entrambi gli appoggi. Ciò determinò un inevitabile slittamento e conseguente crollo dell'impalcato. In questo tragico incidente rimase coinvolto l'operaio Adrian Ionel Mioica, che perse la vita dopo essere stato trascinato nel vuoto.